Sono Carla Rossi, matematica come Bruno De Finetti che è stato il mio maestro e ho seguito per diverso tempo dopo la laurea, poi ho insegnato per 33 anni come professore ordinario all'Università di Tor Vergata, occupandomi per ricerca di applicazioni della matematica e della statistica alle scienze della vita. Un esempio vedremo di questo genere di lavoro. Allora parliamo di un nuovo indicatore per misurare l'impatto di policonsumo di droghe e lo applichiamo a dati di adolescenti per valutare anche la relazione con aspetti sociosanitari e abbandono scolastico. Siamo in cinque autori, io e Francesco Fabbi del Centro Studi Statistici e Sociali, Sabrina Molinaro e Emanuela Colasante del CNR e Gianpaolo Scalietomba dell'Università di Tor Vergata. Il problema del poliuso di sostanze è stato recentemente affrontato in un rapporto anche dalla Global Commission on Drug Policy che invita proprio a utilizzare i valori di gravità del danno delle diverse sostanze all'interno delle politiche e delle leggi antidroga. Nel caso del policonsumo che in Italia sicuramente dopo il 2000 ha preso da espandersi, noi abbiamo introdotto questo indicatore già da diversi anni utilizzando come base i punteggi di gravità delle sostanze stabiliti da gruppi di ricerca internazionali, in particolare tossicologi ma anche sociologi e altro. Questo indicatore adesso è stato messo in rapporto con una serie di situazioni socio-ambientali e anche con l'abbandono scolastico. I punteggi relativi al danno per uso di singola sostanza stabiliti dai gruppi internazionali sono riportati nella tabella e si vede che l'eroina ha il massimo punteggio come danno personale mentre per esempio l'alcol ha il massimo punteggio come danno verso gli altri. L'indicatore di policonsumo che utilizzeremo e che abbiamo usato anche in precedenza su altri insiemi di dati si ottiene come media pesata dei valori dei punteggi stabiliti nella tabella dai gruppi di ricercatori pesati con la frequenza di uso nel periodo considerato. L'indagine ESPA da cui lo andiamo a applicare è un'indagine nella scuola superiore a campione e quindi l'età degli studenti che andremo a vedere va dai 15 ai 19 anni. I vecchi indicatori mettevano al centro la sostanza, cioè gli indicatori che utilizza anche l'Osservatorio Europeo, mettevano al centro la sostanza e andavano a vedere quanti soggetti la utilizzavano. Quindi si ottengono dei grafici, come si vede dal poster, che hanno un valore più basso di uso di sostanza per i 15 anni e il valore aumenta sempre all'aumentare dell'età. Nel caso dell'indicatore dato dalla media ponderata, cioè l'indicatore di policonsumo, sia verso personale che verso gli altri, si ottiene invece che il massimo sia proprio a 15 anni. Allora, questo naturalmente è qualcosa che insospettisce e ci ha fatto analizzare, rispetto sempre a questi dati dell'indagine nelle scuole, anche le abitudini di questi studenti e i rapporti con i genitori e una serie di altre indicazioni che vengono rilevate attraverso il questionario. Naturalmente il nostro indicatore mette al centro la persona e costruisce tutto l'ambiente di uso di sostanze, mentre l'indicatore classico mette al centro la sostanza e va a vedere quanti la usano. Naturalmente quello che si vede per studiare l'abbandono scolastico è il rendimento scolastico al variare del valore dell'indicatore. Naturalmente più è alto l'indicatore, più è basso il rendimento scolastico. La tabella lo illustra. Per andare a vedere la relazione fra i valori dell'indicatore, in particolare questo massimo a 15 anni, e l'abbandono scolastico si sono utilizzati i dati del Ministero della pubblica istruzione in cui si verifica esattamente quello che noi verifichiamo con i valori dell'indicatore, cioè il massimo abbandono scolastico si ha effettivamente fra 15 e 16 anni e quindi in pratica l'abbandono scolastico dipende in gran parte dall'andare male a scuola e quindi questo andamento è perfettamente coerente con l'andamento dell'indicatore che effettivamente a 16 anni si abbassa e si mantiene comunque più basso che a 15 in tutti gli anni successivi. Grazie a tutti.